Buongiorno e ben trovati a tutte le colleghe e a tutti i colleghi. La legge finanziaria 2023, tuttora in corso di approvazione, come ben sapete, contiene all'articolo 24 una norma peculiare. Questa norma di fatto contempla la futura previsione di tassazione in Italia delle plusvalenze realizzate da soggetti non residenti che, cedendo quote di partecipazione di società altresì non residenti, diventano fiscalmente rilevanti in Italia in quanto le società stesse sono detentrici di un patrimonio che negli precedenti 365 giorni rispetto alla data dell'accessione per la più parte sono rappresentate da beni immobili collocati sul territorio italiano. Questa norma è sostanzialmente una norma che va a configurare una sorta di ipotesi elusiva rispetto alla tassazione dei beni immobili legati al territorio italiano che, qualora realizzata attraverso l'accessione di veicoli esteri, non sono più rilevanti ai fini italiani. Peraltro questa norma trova una sua collocazione molto chiara a livello europeo perché il trattato OX del 2017 contemplava all'articolo 13,4 esattamente una fattispecie simile a quella della previsione normativa attuale. Quello che volevo però portare alla vostra attenzione è il fatto che se la norma dovesse essere convertita in legge nello stesso modo con il quale è stata oggi formulata, resterebbero alcuni punti scoperti non chiari ed in particolare a cosa mi riferisco. Innanzitutto alla definizione di bene immobile perché l'articolo 6 della convenzione OX parla di cosiddetto immovable property però questa definizione è una definizione molto ampia che prevede anche i diritti di sfruttamento e quindi che potrebbe in qualche modo far rientrare nel concetto di immobile ai fini della tassazione e quindi ai fini della determinazione della prevalenza del valore anche beni che sono collocati nel settore energetico fotovoltaico. Poi esiste il problema di come andiamo a determinare la quota. La bozza parla di una percentuale superiore al 50% nei 365 giorni precedenti alla cessione. Questo è coerente con il disposto dell'OX ma non è chiaro se la valutazione deve essere fatta al costo storico o al valore di mercato e quale sia l'effetto di eventuali debiti collegati agli immobili stessi. Infine il tema credo più delicato è quello di andare ad analizzare con compiutezza tutti i trattati che sono stati fatti fra l'Italia e i paesi che hanno oggetto la tassazione perché evidentemente qualora non esistesse un trattato e quindi non esistesse una convenzione si potrebbe verificare un problema di doppia imposizione. In ogni caso per tutti coloro che hanno a che fare con clienti che gestiscono attraverso società estere e pur collocati all'estero beni immobili in Italia questo tema e questa evoluzione normativa andrà certamente seguita con la dovuta attenzione. Vi ringrazio.